Ragazzi buongiorno, dopo parecchio tempo che faccio video più che altro di presentazione di prodotti dove vi faccio vedere delle cose simpatiche da comprare e da testare oggi voglio tornare a fare una guida concreta proprio perché tempo fa ho pubblicato un video di presentazione di un server virtualizzato che si chiama Proxmox vi ho fatto vedere che ho eseguito l'installazione, vi ho fatto vedere un pochino le basi di questo programma e ha riscontrato un discreto successo considerando che ha avuto visualizzazioni e anche commenti e richieste, domande e quant'altro se non hai ancora visto il video di presentazione te lo metto qui sopra nelle schede ma oggi voglio entrare proprio più nel concreto su questo software e voglio creare con te un server virtuale con Ubuntu quindi vi farò vedere come creare una macchina virtuale da zero, come andargli ad assegnare delle risorse e poi come andare a scaricare il pacchetto di Linux, nel nostro caso scaricheremo Ubuntu e lo andremo proprio a installare all'interno della nostra macchina virtuale la guida sarà semplicissima, vi faccio proprio vedere al PC tutto quello che faccio come sempre se questo video sarà di tuo gradimento mettimi un bel like perché mi aiuti se non sei ancora iscritto al canale fallo, accendi la campanellina ma soprattutto se hai domande e non capisci qualcosa fammele nei commenti qui sotto oppure iscriviti a Guida Group proprio su Telegram, trovi il link sempre in descrizione in modo tale che possiamo parlare molto più velocemente ti ricordo che comunque i commenti mi possono aiutare a crescere quindi se non ti è di troppo peso fammene uno qui sotto e dimmi che cosa ne pensi del video adesso ci spostiamo immediatamente al PC e cerchiamo di capire come creare questa macchina virtuale andiamo allora eccoci qua sul nostro computer, ti ricordo che quando vai a fare l'installazione di Proxmox gli vai ad assegnare un indirizzo IP e una porta di lavoro che rivedrai anche sulla schermata proprio del display del server fisico dove è collegato Proxmox infatti ti dirà di collegarti all'indirizzo IP che nel nostro caso è il 192.168.1.205 e sulla porta di comunicazione 8006 interna ti ricordo che per visualizzare l'interfaccia web devi aprirla comunque in HTTPS ovviamente non avrai certificati perché è un server locale di conseguenza andiamo a fare avanzate e procediamo sul sito la prima cosa che ci chiederà è di loggarci quindi il nostro nome utente e la nostra password dopo esserci loggati inizieremo a poter vedere proprio tutte le macchine che ci sono installate sul nostro Proxmox nel tuo caso se è una macchina assolutamente nuova non avrai niente nella lista dei PVE nel mio ne vedi veramente tante perché sto gestendo diversi server ti sto nascondendo ovviamente i dettagli delle macchine per una questione di privacy ma iniziamo a vedere come creare da zero la nostra macchina virtuale allora innanzitutto portiamoci avanti e andiamo sul sito ufficiale di Ubuntu e scarichiamo l'ultima versione per desktop io l'ho già fatto e ce l'ho già nel download dopodiché andiamo a creare una nuova macchina virtuale cliccando il pulsantino crea VM in alto a destra ci chiederà il nome della macchina e io adesso qui scrivo proprio Ubuntu YouTube così almeno capiamo che è la macchina che stiamo utilizzando il nome lo vuole attaccato perché se no non ci fa andare avanti prossimo andiamo ad andare a richiedere un'immagine ISO al nostro sistema lui vede già che ho caricato in modo precedente Ubuntu all'interno del nostro Poxmox quindi vi faccio vedere come far sì che compaiono proprio le ISO delle macchine che volete andare a creare quindi dei sistemi operativi che volete andare a creare facciamo quindi un passo indietro, chiudiamo questa finestra, la ricreeremo di nuovo dopo e andiamo proprio nella sezione local.pwe che trovate proprio in fondo alla vostra lista in local.pwe trovate ISO image che potete andare a caricare praticamente all'interno del vostro server fisico per farlo basterà semplicemente che fate carica ci chiederà quale file vogliamo selezionare nel nostro caso andiamo a scegliere la versione di Ubuntu che abbiamo appena scaricato nel momento in cui lui lo vede facciamo semplicemente carica e ce lo troveremo all'interno della lista io non lo faccio perché come vedete la versione 21.10 è la stessa versione che io ho già caricato precedentemente una volta inserito proprio la nostra ISO e trovandola nella lista delle ISO di Poxmox andiamo a creare la nostra macchina dicevamo crea vm ubuntu youtube prossimo ci chiede quale sistema vogliamo andare a installare facciamo ubuntu lui riconosce che è un linux andiamo avanti ci chiede quale scheda grafica vogliamo utilizzare vi consiglio a livello di parte grafica di scegliere la parte spice perché è quella che dà meno problematiche nella visione poi virtuale che andremo poi a fare per accelere proprio la nostra macchina virtuale facciamo prossimo ci chiede in quale disco vogliamo andare a installare ovviamente io ne vedo più di uno perché all'interno del mio Poxmox come vi avevo detto la volta scorsa ho un disco, un ssd che è il local lvm e poi ho un western digital 1 e un western digital 2 che sono due dischi meccanici per fare le prove di cui vi voglio far vedere quindi per installare la parte ubuntu lo installerei sulla parte di local lvm che è la parte ssd quindi decisamente più veloce rispetto ai due dischi meccanici ci chiede di quanti giga vogliamo partizionare il disco proprio perché se il disco ha un tot di giga disponibili nel totale nel momento in cui creiamo una macchina virtuale quella macchina occuperà un tot di giga che noi andiamo a dire indipendentemente se poi li occupiamo realmente con dati all'interno della macchina oppure no ma lui andrà a creare un disco virtuale blindando quel tot di giga che gli stiamo andando a dire 32 giga per le nostre prove sono più che sufficienti in questo momento facciamo prossimo possiamo andare a scegliere quanti socket e quanti core andare a dare alla nostra CPU ovviamente dipende dal processore reale che abbiamo installato sulla nostra macchina fisica in questo momento io lascio uno e uno facciamo prossimo memoria anche qui possiamo andargli a dire quanta memoria RAM vogliamo nel nostro caso sulla macchina fisica abbiamo se non ricordo male 32 giga installate però considerando che ho molti processi attivi manterrei anche per questa macchina virtuale i 2 giga di memoria RAM questa memoria è modificabile in qualsiasi momento anche dopo aver creato la macchina facciamo prossimo andiamo a scegliergli quale scheda di rete lui dovrà utilizzare per la connessione a internet questa connessione virtualizzerà una nuova scheda di rete che andrà praticamente in bridge con la scheda di rete reale fisica della macchina lasciamo pure tutto così com'è voi probabilmente vedrete una sola scheda di rete come volete vedere io ne ho due perché ho due schede di rete installate proprio sul mio Proxmox per motivi tecnici ma andiamo avanti chiudiamo e lui inizierà immediatamente a creare la macchina che la troveremo proprio in fondo alla lista come vedete ha l'ID134 e appena la macchina sarà creata vedremo anche il nome Ubuntu YouTube come potete vedere tasto destro sulla macchina e facciamo avvia il computerino che in questo momento è spento appena la macchina sarà avviata diventerà colorato e adesso se noi selezioniamo la macchina e andiamo proprio a andare a visionare che cosa sta facendo cliccando semplicemente di qua console ci aprirà proprio la parte di virtualizzazione se lo vogliamo vedere a pieno schermo semplicemente clicchiamo questo tasto con le due frecce e vedremo proprio la nostra installazione di Ubuntu completa è già partita l'installazione ovviamente la velocità della macchina la velocità dei processi la velocità dell'installazione stessa di Ubuntu sarà legata a quante risorse noi gli siamo andati a dire prima nella macchina virtuale ma è anche legata ovviamente alle risorse reali della nostra macchina fisica quindi del nostro server fisico che siamo andati a costruire quindi se abbiamo bisogno di mantenere tante macchine virtuali accese vi consiglio ovviamente di avere un hardware minimamente corazzato proprio per poter riuscire a gestire tutto al meglio se invece state semplicemente facendo dei test anche un hardware un pochino più scarso può andare benissimo allora scegliamo proprio la lingua di installazione e facciamo installa Ubuntu qui sopra potete vedere le 15.39 l'ora in cui inizieremo l'installazione qui scegliamo semplicemente la lingua facciamo avanti installazione normale scarica in automatico gli aggiornamenti e possiamo anche dirgli di installare i software di terze parti per le parti grafiche, wifi, rete e parti multimediali facciamo avanti 15.39 installazione che inizia ovviamente ci chiede se cancellare il disco e installare Ubuntu possiamo farlo tanto è un disco dedicato virtuale facciamo avanti e vediamo proprio quanto tempo ci mette a installare il nostro Ubuntu nome computer scriviamo proprio Ubuntu YouTube scegliamo una password che per semplicità facciamo 123456 adesso sta effettivamente iniziando la copia dei file lo lasciamo lavorare e ci rivediamo quando ha terminato l'installazione vediamo quanto tempo ci ha messo perfetto 17.50 e ha appena terminato l'installazione ci chiede adesso di riavviare il computer lo facciamo in realtà lui riavvierà solo la macchina virtuale ci ha messo circa 11 minuti considerando però le risorse veramente limitate che gli siamo andati a dare su una macchina che comunque è discretamente potente a livello fisico quindi la macchina reale ha già una discreta potenza le risorse date però sono molto molto limitate abbiamo anche scelto un'installazione che non è proprio delle più leggere dei Linux infatti Ubuntu probabilmente è una delle versioni di Linux un pochino più pesante se volete un qualcosa di un po' più leggero nelle local pwe quindi nelle parti che vi ho fatto vedere prima delle ISO caricate io avevo caricato anche l'Ubuntu che è una versione più leggera molto simile a Ubuntu ma che comunque fa la sua differenza nell'utilizzo infatti è decisamente più veloce più snello Ubuntu si sta riconnettendo facciamo proprio il login alla nostra macchina virtuale 123456 e come puoi vedere siamo all'interno del nostro Linux Ubuntu è un computer a tutti gli effetti funzionante come vedete ci sono le configurazioni iniziali che ci chiede di fare normalmente Linux la macchina risulta in rete come potete vedere da qui sopra quindi se tentiamo di navigare la macchina naviga correttamente apriamo proprio Firefox come potete vedere possiamo entrare tranquillamente all'interno del nostro canale di Guida in italiano tra l'altro se non l'hai ancora fatto belli iscriviti qui sopra accendi la campanellina ma soprattutto metti un like a questo video bene direi che l'installazione è completata oltre a navigare su internet ovviamente come vedete lui funziona proprio come fosse una macchina reale ci sta richiedendo se vogliamo fare gli aggiornamenti ufficiali del software possiamo fare tutto quello che faremo su una macchina reale fisica dove c'è solo Linux installato ovviamente oltre ad andare a navigare online questa macchina virtuale può anche comunicare con tutte le altre macchine virtuali che siamo andati a creare su Proxmox ovviamente con le classiche regole di rete che possiamo trovare in una rete locale fisica bene ragazzi per questa installazione è tutto è decisamente comodo avere un qualcosa del genere perché possiamo provare diversi sistemi operativi senza andare a intaccare in alcun modo quello che è il nostro pc dove lavoriamo di solito se dobbiamo fare degli esperimenti possiamo farlo perché addirittura abbiamo la possibilità di clonare le macchine quindi una macchina configurata già in un certo modo possiamo clonarla quante volte vogliamo e andare a fare gli esperimenti su tutte le volte macchine diverse quindi senza andarci a incasinare no devo ristallare tutto da zero no abbiamo il nostro clone principale dove abbiamo fatto tutte le configurazioni principali da lì in poi è fantasia facciamo tutto quello che assolutamente vogliamo ma soprattutto nel momento in cui vogliamo andare a eliminare un problema un errore che siamo andati a creare con i nostri esperimenti semplicemente tasto destro elimina macchina è finito abbiamo già un'altra macchina virtuale che avevamo clonato in precedenza pronta per essere utilizzata senza alcun problema e quindi questo apre veramente un mondo di opportunità cercherò di fare altri video dove vi faccio vedere altre cose di Proxmox se avete delle domande specifiche fateme nei commenti qui sotto in modo tale che cercherò di andare a indirizzare i video proprio sulle vostre esigenze l'unica cosa che per adesso ho avuto grosse difficoltà o meglio che non sono proprio riuscito a fare è andare a cambiare la scheda di comunicazione di rete per quanto riguarda l'interfaccia web di Proxmox una volta che lui durante l'installazione prende la scheda di rete principale e si imposta quella per tutta la parte di configurazione e interfaccia web non c'è più stato verso di cambiarla probabilmente sono io che non sono in grado di farlo ma ho cercato guide dappertutto e tanti altri utenti hanno avuto lo stesso problema ma non ho trovato soluzioni ci ho perso veramente tante ore anche insieme a Paolo per provare a cambiare questa cosa ma non ci sono riuscito quindi se qualcuno di voi per caso è riuscito a farlo mi scriva perché sono veramente curioso di sapere come si fa e magari una mano lava l'altra e anche io imparo sempre qualcosa di nuovo per questo video è tutto ti richiedo un like un'iscrizione al canale mi aiuti a crescere e speriamo di riuscire a diventare sempre più bravi ad aiutare sempre più utenti che hanno difficoltà o hanno bisogno di guide pratiche semplici per riuscire a risolvere proprio i loro problemi informatici e tecnologici per questo video è tutto io ti saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao